Workshop all'Urban Center, qualità della vita per soggetti con sindrome di Down. Si è parlato anche di progetto di vita durante l'ultima sessione nell'ambito del workshop organizzato dalla sezione di Siracusa dell'Associazione Italiana Persone Down, svoltosi all'Urban Center in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down. Affrontando il tema della qualità della vita per i soggetti con sindrome di Down, è emersa ancora la parziale o non sufficiente conoscenza delle opportunità, pur previste da alcune specifiche leggi, che laddove trovassero compiuta applicazione consentirebbero di costruire concreti progetti di vita delle persone con disabilità. Un deficit di conoscenza che, come è stato fatto osservare, coinvolge almeno in parte sia la sfera degli enti territoriali che quello degli stessi genitori di figli con disabilità. Altro capitolo, quello relativo ai fondi, dai diversi momenti di confronto svolte nell'ambito del workshop emerso che, pur essendo disponibili risorse da destinare in maniera specifica interventi ad ampio spettro, a cominciare dal tema dell'inclusione, per le persone con disabilità in alcuni casi tali somme non vengono ancora utilizzate, benché siano accantonate a diversi anni. Alla stessa stregua occorre migliorare la capacità di utilizzo di specifici fondi comunitari messi a disposizione per progetti finalizzati al mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Alla luce delle criticità emersi, a fronte comunque anche di alcuni importanti e confortanti risultati pur registrati, l'associazione ha rilanciato con forza l'esigenza di realizzare in tempi adeguati una mappatura dei centri del lavoro della zona e di contribuire a creare le migliori condizioni perché queste strutture abbiano una funzionalità ottimale. Altra sollecitazione è stata poi quella di istituire dei centri per l'impiego interinale, tra le priorità indicate pure quella di migliorare la comunicazione tra le varie associazioni che si occupano di disabilità. Alla fine dei lavori è stato consegnato al relatore un documento programmatico contenente le proposte migliorative per il territorio di Siracusa, formulate dalla stessa associazione. Tra queste l'aggiornamento del censimento delle persone con disabilità nella provincia di Siracusa e nei singoli comuni del territorio, capoluogo incluso, così da poter avere un numero certo sulla popolazione diversamente abile e suddivisa anche per tipologia di disabilità. La sollecitazione alle aziende sanitarie affinché certificano la necessità di avere i piani educativi individualizzati per alunni diversamente abili, redigendo il profilo di funzionamento e non la diagnosi funzionale come voleva la vecchia normativa. L'accompagnamento degli alunni e delle alunne con sindrome di Down nella delicata fase post-diploma di scuola superiore attraverso l'indirizzamento al collocamento mirato, ai percorsi di servizio civile nazionale, alla creazione di cooperativa sociale o ai centri di urne di zona e in tal caso si chiede di realizzare o aprire nuovamente tale struttura nel territorio comunale e provinciale di Siracusa. Il workshop è stato promosso dall'associazione italiana Persone Down di Siracusa in collaborazione con Siracusa Città Educativa.